Tino Iannuzzi ha ricevuto in Commissione Attività Produttive la risposta del Ministero dei Beni Culturali alla interrogazione che aveva presentato per evidenziare le molteplici ragioni che si oppongono alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a biomasse in località Sabatella Sorbella nel comune di Capaccio Pestum. Molto importante e significativa è la posizione assunta dal Ministero dei Beni Culturali che ha riconfermato con congrua motivazione il parere contrario e negativo nei confronti dell'impianto. La centrale in quel territorio rappresenterebbe una scelta sbagliata per le ragioni ben indicate dalla soprintendenza delle belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino e dalla competente direzione generale del MIBAC perché la zona interessata dal progetto è vicina al sito archeologico di Pestum, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO ed è visitata da rilevanti flussi turistici. Inoltre nelle vicinanze ricadono aree naturali protette ed il territorio del comune parzialmente rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mentre la restante parte è inserita nelle aree contigue del parco, assimilate alle aree di protezione esterna dei parchi e come tali sottoposte a tutela paesistica. Diversi quindi sono i vincoli che ex legge insistono su quel territorio. Nella replica Iannuzzi ha evidenziato che la procedura attualmente in corso, di cui all'articolo 14 Quater, comma 3 della legge numero 241-1990 presso il Dipartimento per il coordinamento della Presidenza del Consiglio, è stata originata sia dal dissenso del MIBAC sia da quello espresso dal Sindaco di Capaccio per il profilo assolutamente primario e prioritario della tutela della salute delle persone, come emerso anche nella riunione istruttoria dello scorso 29 ottobre. L'Istituto Superiore di Sanità si è pronunciato nel senso che lo studio a base del progetto della Centrale, evidentemente per i suoi forti limiti e per le sue obiettive insufficienze e carenze, non permette di valutare il reale impatto ambientale e sanitario dell'impianto in quel territorio, anche per la genericità estrema della relazione illustrativa.